assiduamente questo è importante lo strumento del cenacolo umanità in movimento emette il primo apporto orale durante una riunione in un centro di spiritualità è un rosario che si unirà agli altri due fotografati qui di seguito i rosari sono stati donati dalla guida fisica enzo m a persone diverse non presenti nel momento della materializzazione le persone non presenti erano quattro tra di esse vi era una coppia marito e moglie che tuttavia aveva partecipato assiduamente questo è importante alle materializzazioni seguendole in diversi centri spirituali grazie a tutti